Buongiorno, oggi la premiazione è sotto il sole, ma sta bene, anche perché così uno rientra a casa abbronzato col sole di capocaccia, che vale tantissimo. Allora, detto questo, io ringrazio ancora tutti quanti coloro che hanno presenziato questa manifestazione, parlo dei ciclisti, e a tutti quanti che hanno collaborato e contribuito per la riuscita della manifestazione. Gino Mameli vi dà appuntamento al 2022, sempre se il patron mi conferma il contratto, e se io in questi giorni sono stato come premiazioni capace per fare questo servizio, se non sono stato capace, pazienza e mi scuso con tutti voi. Detto questo, chiamiamo alla premiazione, primi tre classificati in categoria maschile, Damiano Lenzi, Fedic Grudiex e Cristian Dallago. Dove sono i tre moschettieri? Eccolo qua. Damiano Lenzi, Damiano Lenzi. Arriva di corsa? Non è lui. Dov'è Damiano? Eccolo qua, Damiano Lenzi e poi anche Cristian Dallago. Vai! La tappa di oggi, l'ordine d'arrivo di oggi, eh? Primo Lenzi, secondo Grudiex, terzo Dallago. L'applauso del pubblico per questi tre corridori che quest'oggi hanno faticato abbastanza nell'affrontare quelle salite, sembrava dove giravano i film western oppure dove arrivano le aquile. E' arrivato un'aquila, Damiano Lenzi, vincitore, che adesso sentiamo le sue impressioni e anche Federico sentiamo le impressioni di questa tappa, perché hanno corso sul filo del rasoio pochi secondi di differenza tra l'italiano e il tedesco. Erano solamente 16 secondi il vantaggio di Damiano Lenzi nei confronti di Federico e adesso sentiamo come è andata questa corsa. Grazie per la vostra presenza, però sentiamo, Damiano, vieni qua. Allora, ci mettiamo qua, siamo in diretta con la televisione. No, no, vieni, 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 vieni. Allora, raccontaci velocemente. Intanto, oggi ho scoperto una cosa. Damiano Lenzi fa il ciclismo a tempo perso, perché lui fa tutto altro di professione. Cosa fa? Lo spiega a lui. No, io d'inverno corro con gli sci, faccio sci alpinismo, sono un atleta della Nazionale Azzurra e mica è poco questo, eh? Sì, sì, vado in bici per allenarmi, cioè un po' per divertimento, un po' per passione e poi perché ho un buon allenamento per l'inverno. Lui fa parte dell'esercito italiano? Sì, faccio parte del centro sportivo esercito di Courmayeur e adesso inizierà la stagione. Quando torno a casa una settimana e poi sarò subito in ghiacciaio e sciare. Immaginate se dovesse fare il ciclismo a livello professionistico? Ma non lo so, non lo so. Ormai ho preso un'altra carriera, ho 34 anni e ormai sono alla fine della mia carriera di atleta di sci alpinismo. E quindi lo faccio per passione, dai. Senti, la tappa di oggi avevi 16 secondi di vantaggio nei confronti... Ciao Fabio, è arrivato anche Fabio Aro e mi sembra giusto non coprirlo. Anzi, stai vicino a me così sentiamo le impressioni. Allora, avevi 16 secondi di vantaggio nei confronti di Federico e quest'oggi hai spolverato al massimo tutta la tua energia in quelle strade bellissime. Sì, avevamo pochi secondi di differenza e giustamente lui è attaccato, ha provato a dare il tutto per tutto ma ero fiducioso nei miei mezzi perché è da quando 15 anni che mi alleno per stare fuori soglia quindi diciamo che una sparata così, partire e fare subito il fuorigiri era quello che volevo io perché so che poi riesco a rientrare bene da questi fuorigiri e così è stato, abbiamo fatto un grande fuorigiri i primi due chilometri poi sono riuscito un po' a recuperare e quando ho visto che avevo recuperato che le energie erano un po' tornate ho provato a allungare e da lì sono stato solo fino al traguardo e ho vinto con un buon margine mi ha anche divertito e sono contento perché dopo una corsa di una settimana a finire in progressione anche per me, per il mio allenamento in vista della stagione è un buon segnale. A chi vuoi dedicare questa vittoria? Ma la dedico a tutti o a nessuno, diciamo che... Prima a te insomma, no? Sì, al team, a tutti... A Lely? Ma sì, a tutti i ragazzi che c'erano qua, a tutti quelli che sono venuti a fare il giro di Sardegna spero che dobbiamo sempre tenere colto che sono corse insomma amatoriali siamo qua per divertirci, ci siamo divertiti e quindi un grazie a tutti e la dedico a me e a tutti. Grazie Damiano! Allora, vai, vai, purtanto poi devi tornare Categoria femminile, prima Barbara Duse, seconda Alice Capone, terza... parlo dell'arrivo di oggi, eh? Terza Elk Schonard Eccole qui Ciao Alice, finalmente la conosciamo, Alice ciclista che per tanti giorni guida la classifica però non si è presentata alle premiazioni in quanto la mattina va in bicicletta dopo la corsa ciclistica si allena per il triato e di sera va a lavorare L'applauso del pubblico per le prime tre classificate Categoria femminile Grazie Adesso passiamo alle premiazioni della combinata con consegna Maglia Bianca Questo anche per la Missi Maglia Bianca Maglia Bianca Cristia Dallago Damiano Lenzi Fabio Orcame Cristia Luisotto Tengo a precisare questa è una classifica solo per i corridori italiani perché è una classifica nazionale Matteo Bertani Massimiliano Lelli Pierluigi Stefanini Luigi Filippanzi Giorgio Paris Antonio Pegoraro Barbara Duse Raffaele Gianotti e Patrizia Cabella Allora siccome non c'è un podio vi mettete tutti in fila e le signore e le signorine vi consegnano le maglie e io mi siedo vicino a Fabio Aro Allora attento Allora vi voglio tutti in fila nel palco perché c'è il fotografo e la televisione che vi dovrà inquadrare Gabriele Allora Gabriele il fotografo ufficiale del giro e mi sembra giusto no? in prima fila vai davanti Barbara vai davanti è lunga? eh va bene ingresso un po' ingresso un po' ingresso un po' Giorgio Carpitti grazie ragazzi e ragazze adesso chiamiamo i vincitori assoluti vale a dire Damiano Lenzi Federichi Klusier e Matisse Kuedi allora questi sono bei premi veramente adesso senti Damiano cosa ti dà l'organizzazione allora premio per il premio classificato Damiano Lenzi poi c'è Federichi Klusier e poi Matisse Kuedi allora al vincitore assoluto oltre al cesto di prodotti sardi avrà l'assegno per il prossimo giro Sardegna compreso hotel e iscrizione gratuita Damiano questo vuol dire che dovrai tornare anche il prossimo anno sci permettendo perché questo sarà ad aprile non più a settembre e tu stai ancora sciando? e vabbè delega qualcuno altro per lo sci e tu vieni a fare il ciclismo allora poi avrai al prossimo giro Sardegna massaggi gratuiti tutti i giorni e qui dobbiamo dire grazie al massaggiatore Valentino grazie a tutti basta così la consegna della maglia la fa Fabio allora Fabio Aru consegna e lo ringraziamo per essere con noi la consegna della maglia gialla al primo classificato Damiano Lenzi Damiano è un onore è avere un campione come Fabio Aru e avere la consegna della maglia non puoi dimenticarlo questo e beh mi sembra giusto allora ricordo che siamo in diretta su Direct Sport Giro di Sardegna allora diamo spazio anche in fotografi grazie grazie poi va sulla gazzetta dello sport quella foto eh sì allora donde Alice Cappone Barbara Duse e Elk Schonard eccola qua brava Elk Elk allora Cappone sali sul gradino più alto mentre la Duse va a seconda posizione e Elk no 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 il secondo è questo questo è il terzo questo è il terzo quello è il secondo vai allora anche per la prima classificata del giro vale a dire per Alice Cappone viene assegnato il premio hotel e iscrizione gratuita per il prossimo giro vale a dire per il mille duemilaventidue più i massaggi tutti i giorni da massaggiatore Valentino Alice va bene no eh io non ho ancora parlato con te adesso la intervistiamo dopo che Fabio consegna la maglia sentiamo le impressioni di una triatleta che è partecipata a questo giro di Sardegna e scendi perché così ti consegnano la maglia Fabio Aro l'applauso del pubblico signori è un avvenimento particolare questo una sarda e mi sembra che è la prima volta che una sarda vince il giro Sardegna perché hanno vinto sempre le straniere oppure le le partecipanti della nord d'Italia oggi ha vinto una sarda e io dico una sarda bravissima grazie grazie sì 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 scendi Alice ecco qui adesso ti presentiamo parcheggia il premio allora conosciamo Alice da vicino allora io l'ho presentata già qualche giorno fa che lei la sera non c'era perché di mattina correva in bicicletta però quando smetteva la tappa andava a correre a piedi perché lei è una triatleta di sera va a lavorare oggi ha preso un giorno di ferie per poter venire a fare a ricevere i premi vinti allora chi è Alice Capone allora io faccio sono un atleta parla voce alta come parlo io io sono un atleta pratico triatron da diversi anni si sente no vero Alice in bicicletta sei bravissima cerca di sforzarti di più con la voce dai niente dicevo sono una triatleta nel triatlon il triatlon è uno sport composto da tre discipline quindi si nuota si va in bici e si corre quindi decido di partecipare a questo giro perché a fine mese è una gara di triatlon molto importante dove? è sempre qua in Sardegna al Fort Village ecco siamo in diretta Alice guarda la telecamera la regia mi suggerisce appunto di guardare la telecamera quindi sempre al Fort Village e si tratta di una gara internazionale una gara internazionale marchiata Ironman quindi il percorso in bici più o meno assomigliava ai percorsi che abbiamo fatto a questo giro di Sardegna quindi per poter allenarmi in compagnia e anche fare un po' di ritmo perché io me l'eleno sempre sola e quindi ho deciso di partecipare a questo giro quindi la maglia era inaspettata una sorpresa insomma una sorpresa sì infatti poi dopo la terza tappa avendola indossata ecco mi non l'hai più mollata esatto mi sono impegnata per tenerla a chi vuoi dedicare questa vittoria questa maglia? la voglio dedicare a tutti i ragazzi che si allenano con me che comunque sia anche in questo giro di Sardegna mi hanno aiutato e supportata a finirlo nelle migliori condizioni alla mia famiglia insomma a chi mi sta vicino e chi mi permette di fare di conciliare lo sport con il lavoro tuo padre secondo me è il più grande tifoso di te perché ti segue sempre con lo scooter e oltre ad Alice Capone c'è un altro corridore in famiglia Filippo Capone bravissimo anche lui sì infatti che è nato prima ciclista Filippo o tu? assolutamente mio fratello io vengo molto dopo di lui lui è un insomma un atleta che ha fatto questo sport quasi da professionista e adesso si diverte quindi assolutamente lui prima di me va bene sei emozionatissima senti un pronostico per la gara che avrei a Forte Village all'attrito internazionale allora per me è la prima esperienza su questa distanza quindi sarà una novità come lo è stato questo giro di Sardegna quindi speriamo mi porti fortuna come mi ha portato fortuna questo giro e dunque sapremo che Alice Capone potrebbe vincere il trioto di Forte Village no vincerlo assolutamente no ma credici tu almeno grazie l'applauso del pubblico grazie Alice Damiano Lenzi dov'è Damiano Lenzi è al mare in piscina no è qua dobbiamo fare le foto le due maglie gialle leader del giro Sardegna venticinquesima edizione allora facciamo la foto vai Fabio bel quadretto questo organizzatore Scarpitti poi c'è Fabio Aro e i vincitori del giro vale a dire Damiano Lenzi e Alice Capone grazie grazie adesso passiamo alla premiazione per categorie che sono tante 13 categorie allora categoria prima categoria primo Mattius secondo Cristian Dallago terzo Filippo Capone Filippo Capone fratello di Alice Capone allora tutti riceveranno un premio adesso che questo è sempre per il prossimo giro allora al primo un buono di 100 euro al secondo 75 al terzo 50 euro da De Falcari alla iscrizione del prossimo giro Sardegna allora questa volta abbiamo una ragazza che consegna la maglia gialla al primo classificato di categoria anzi le dovrai consegnare a tutti i vincitori di categoria ti paghiamo per quello grazie l'applauso del pubblico e poi li mandiamo a casa c'è qualcuno per prendere l'aereo e partire o qualcuno prendere la macchina e partire a Cagliari allora poi seconda categoria Damiano Lenzi Riccardo Zacchi Daniele Pattanei infatti Damiano Lenzi gli avevo detto ma sei venuto in macchina o in aereo o un furgone perché di premi Gianni Aguacchistati tanti Damiano ecco qui il furgone ce ne stanno ancora sì sì eh bravo 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 allora stesso discorso per l'altra categoria c'è un buono da 100 euro uno da 75 uno da 50 per il prossimo giro Sardegna l'applauso del pubblico e poi li mandiamo a riposare perché oggi hanno lavorato tanto grazie buon rientro a casa ragazzi buon viaggio terza categoria primo Ben Witt secondo Fabio Orcamme terzo Andrea Costanzo Sardo della squadra Aio Costanzo Costanzo ti sei fatto onore in questo giro eh allora chi manca manca il secondo il secondo Riccardo Orcamme Fabio Orcamme c'è eccolo chi arriva allora Silvia consegna la maglia da leader scusate da primo classificato grazie passiamo alla categoria a quarta categoria Federici Grunies Cristian Luisotto Lorenzo Bresic eccolo qui Silvia pronta allora anche per questi per tutti vanno per tutti i classificati della categoria va un buono da 100 euro al primo da 75 al secondo da 50 al terzo da per il prossimo Giro Sardegna Federico l'applauso del pubblico quest'oggi è caldo il pubblico grazie cercheremo di essere veloci in tutte queste premiazioni categoria allora quinta categoria Matteo Bertani Massimo Pintori Giovanni Battista Muretti qui ci sono due sardi nei premi tre la maglia va a Matteo Bertani mi sa che Muretti non c'è ecco Bertani poi c'è Massimo Pintori secondo classificato Silvia consegna la maglia al vincitore della categoria vale a dire a Matteo Bertani e anche per loro ci sono i premi per il prossimo Giro 100 euro 75 euro e 50 euro l'applauso del pubblico grazie sesta categoria primo l'ex professionista scalatore cronome Massimiliano Lelli che oggi in questa settimana ha avuto un ruolo importante con la squadra ha dato i consigli utili per poter conquistare questo giro secondo classificato Alessandro Locatelli terzo Francesco Silvestri Silvia guarda guarda è in onore di consegnare la maglia a Max Lelli telecolonista della Rai i buoni da 100 da 75 da 50 l'applauso del pubblico grazie grazie Massimo vuoi dire qualcosa? Max vuoi dire qualcosa? ma c'è poco da dire abbiamo chiuso bene in bellezza eravamo molto tesi però Damiano insomma ha dimostrato veramente di avere un campione è uno forte veramente tanto lui non ci sente tanto non ci sente noi come squadra abbiamo dato il massimo dunque siamo riusciti nella grande impresa perché poi in realtà non era così facile contro una squadra che comunque lo fa quasi di lavoro però dai ci siamo divertiti voglio ringraziare anche Jean Pellissier sua moglie che tra l'altro è andata molto bene anche in gara che ci hanno supportato sponsorizzato una domanda sarai presente anche al prossimo giro ma come ho detto già a Tonino ora era qualche anno che mancavo e dunque ora non posso più mancare e mi sembra giusto fino a che riesco a pedalare cerco di venire ce n'è ce n'è Lelli ciao allora settima categoria Pierluigi Stefanini Valentini Riegler Gianluca Brugnami eccoli qua tre moschettieri di questa categoria Silvia è pronta altra maglia ci siamo? sì Stefani dai abbottona la maglia che devono farti la fotografia le telecamere ti stanno inquadrando grazie l'applauso del pubblico grazie grazie ciao ottava ottava categoria Luigi Filippazzi Michele Bartoli Michele Bartoli il falso però non è l'originale poi abbiamo Stefano Dallago Silvia consegna la maglia a poi ci sono altre notizie per voi l'applauso del pubblico grazie grazie della vostra partecipazione e passiamo alla categoria successiva vale a dire la nona categoria Wild Wolf Giorgio Paris e Salvatore Palvetti come facciamo lo diamo a voce grazie grazie ragazzi l'applauso del pubblico e vi mandiamo un po' ad abbronzare nel anfiteatro grazie invitiamo la decima squadra scusate la decima categoria Antonio Pegoraro ricordo 25 partecipazioni a Giro Sardegna vale a dire ha partecipato a tutti i giri secondo Lory Cillerai e terzo Luigi Vizi sei qua anche per voi c'è un buono da 100 euro al primo 75 al secondo e 50 al terzo da utilizzare al prossimo Giro Sardegna era ora era ora Tonino era ora 25 edizioni insomma emozionato lascio lo stai sul podio l'applauso signori grazie grazie buon buon rientro a casa buon divertimento ciao poi abbiamo la categoria femminile categoria v1 Alice Capone Barbara Duse e Roberta Loriga e due sardi in questo podio Barbara Duse eccola qua prima Alice Capone seconda Barbara Duse e terza Roberta Loriga Roberta sei contenta sì un palco simile non capita tutti i giorni no l'applauso signori grazie a queste ragazze categoria v2 Elk Shonard Karina Mohan e Raffaella Gianotti Elk uno eh questa volta uno buongiorno buongiorno c'è la 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 eccola qui eccola che arriva sì allora Elk Elk prossimo giro 100 euro di sconto eh alla seconda 75 e la terza 50 un impegno per poter partecipare al giro del 2022 ci stai sì va bene viene il prossimo anno è scontato che dovevi partecipare anche perché vuoi vincere no grazie Elk l'applauso signori siamo alle ultime battute di questo di queste premiazioni di questo giro le donne sono sempre affascinanti eh però eh grazie adesso invece abbiamo ciao Elk ciao 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 adesso abbiamo la maglia nera maglia nera c'è Patrizia c'è un'altra sì sì scusa c'è la V3 Patrizia che è da sola Patrizia dov'è Patrizia la genovese eccola qua Patrizia che arriva sei da sola dunque dividi la tua la tua vittoria con te stesso applauso signori e c'è anche l'impegno per il prossimo giro di Sardegna mi fa piacere io non so se ci sia però mi fa piacere lo stesso allora foto ricordo con Tonino Scarpiti e Fabio Aro grazie Patrizia buon rientro a casa e adesso c'è la maglia nera la maglia nera oggi è Overti Fausto Overti c'è? eh sì e non poteva mancare questa è la seconda no la seconda maglia che vince in questo dire allora ringraziamo i partecipanti del tour e anche i conduttieri del tour vale a dire Enzo e Silvana e facciamo un applauso a questi due personaggi che per sei giorni hanno girato in lungo e in largo andando a vedere le bellezze del di Alghero e delle coste di Alghero però le ringrazio non sono presenti le ringraziamo e andiamo avanti dunque ci sono i premi per i Silvana c'è allora Silvana vieni vogliamo vogliamo e vogliono sapere come è andato il tour per quanto mi riguarda è andato benissimo perché le persone che sono venute in giro con noi sono rimaste soddisfatte contente hanno visto bellissimi posti niente è andato bene gli hai detto che il prossimo anno sarà da un'altra parte il giro e ci saranno altre bellezze da visitare la Sardegna è bella tutta perciò dovunque sia il giro sarà sicuramente interessante bellissimo da vedere grazie a Silvana adesso invece chiamiamo i gruppi un rappresentante dei gruppi da premiare vale a dire classifica a squadra prima squadra allora il gruppo più numeroso è Max Lelli Max Lelli dove è? in piscina? ti mandiamo la telecamera là allora stai buono te lo comunico da qui allora hai diritto allo sconto del 10% per il giro sta arrivando non fa niente tanto siamo al mare vieni costume là tanto la televisione non lo inquadra fino a un certo punto ecco questo non mi era ancora capitato di vedere un ciclista ritirare un premio in costume da bagno oh scusate no metti qui davanti mi sembra giusto ma bravo è un personaggio è un personaggio in bicicletta è un personaggio anche in un palco no? premiazione allora hai diritto dello sconto del 10% per il prossimo giro poi poi aspetta mica finita allora Luca di Filippo ti offre un buono di 500 euro da acquistare per indumenti indumenti creati da lui guarda che è un artista è come grafico è come maglificio e Tonino Scarpitti lo deve tenere buono al signor Luca grazie Max allora prima squadra classificata è la squadra della Coreet Coreet Coreatec 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 allora ha diritto allora eccolo qui vieni 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 non aver paura dai io non parlo tedesco però tu capisci un po' italiano Federico io lo chiamo Federico in italiano allora avete diritto allo sconto del 10% per il prossimo giro Sardegna vale a dire 2022 inoltre hai diritto a un buono di 300 euro che te lo offre sempre sempre Luca di Filippo maglificio IO da spendere nei indumenti indumenti allora facciamo un applauso a questi ragazzi che sono simpaticissimi sono arrivati secondi con onore grazie ciao ciao buon rientro a casa ciao poi è la volta della squadra asdneusciclismo.com c'è? asdneusciclismo.com non c'è poi abbiamo ancora la squadra questi ci sono eh Ayo Ayo Allora Andrea Costanzo non è parente di Maurizio questo lo ripeto è un simpaticissimo Andrea è forte anche come corridore anche per la squadra di Ayo ti premi in casa tu ti premi Ayo Ergent Eccoli qua Serra il presidente chi è? Sanna complimenti e con questa premiazione terminiamo le premiazioni per il 2021 adesso cedo la parola all'organizzatore Tonino Scarpiti Gino Mameli vi ringrazia e vi saluta appuntamento forse a 2022 grazie 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 allora la Shakti non la vedo c'è in giro facciamo un applauso per Gino un applauso per Gino giusto va bene allora ok non vedo né Shakti e neanche i boss dell'Ari vieni vieni Luca Luca e Fabio va bene lei si è già presentata ieri e oggi può fare un piccolo bilancio anche della giornata di oggi breve perché so che è caldo e insomma prima andiamo ciao a tutti la giornata per noi è stata molto positiva stanno continuando ad arrivare donazioni sul nostro sito che ieri ricordavo www.bikelifetour.it mi sono divertita molto l'accoglienza è stata strepitosa quindi continuiamo con la conclusione grazie a tutti dove sono i compagni non trovo i compagni di viaggio i compagni di viaggio e li ha ti ha chiamato eccoli chiamalo vieni ti ha chiamato lui è la persona che era in quella macchina infernale in cui sono entrato anch'io stamattina è ex presidente dell'Ari dell'associazione Randonet e ha sposato anche lui questa iniziativa beh non c'è da dire nulla di più di quello che è stato detto mi sembra la serata abbastanza calda io ringrazio Tonino di averci dato questa opportunità noi tutti gli anni contiamo di essere qui come negli anni passati con Tonino per una piccola iniziativa che riguarda quest'anno è stata la più bella diciamo gli anni passati organizziamo le randonnee cioè le lunghe distanze è la nostra specialità e quindi ci ritroviamo di sicuro anche il prossimo anno con tutti voi e magari qualcuno di voi che è stanco di fare solo 100 km potrebbe iniziare a provarne a farne mille per volta per trovare un gusto diverso diciamo così grazie a Shakti e a Luca allora parliamo un poco di questo giro Sardegna grazie Luca intanto devo dire che io li ho fatti tutti a 25 e questo è un degno venticinquesimo anno nel senso che è stato bello come location questo hotel si trova in una strepitosa posizione bella la gara belli panorami bello che non ha piovuto se non qualche goccia il primo giorno ed è stato bello rivedere tanti amici che magari oggi non ci stanno per via di questo sole che è terribile da sopportare è stato bello poi avere Fabio Aru con noi e io spero che questa collaborazione possa continuare anche negli anni a venire così come è stato bello avere persone come Max Lelli che sono stati dei campioni ma che ancora si divertono ad andare in bicicletta lui ma io non sono un buon intervistatore e quindi intanto così come poi farò le mie conclusioni le faccio fare anche a a Fabio e sperando che non sia l'ultima volta che ci vediamo sì grazie allora ci tengo a dire poche cose ma insomma sincera intanto complimenti a tutti i partecipanti perché ho visto oggi pedalando facendo qualche pedalata insieme a loro la passione che hanno e questa è la cosa più importante anche io continuo ad avere passione dopo anni di sacrifici ma questa è una cosa bella per il nostro sport e grazie a te Tonino per l'invito per avermi fatto vivere questa esperienza nuova e diversa per me e a tutta l'organizzazione complimenti e grazie anche per l'invito per i prossimi anni insomma mi farà piacere essere partecipe della vostra della vostra manifestazione complimenti ancora a tutti e buon viaggio buon rientro grazie allora per contro per contro qualche cosa negativa c'è stata oltre a tanti amici che ci sono qui alcuni amici non sono potuti venire amici di lunghissima data chi per un motivo o chi per un altro e questo mi è molto dispiaciuto perché a me il venticinquesimo anno lo mettevo come un punto di arrivo per quanto riguarda questa esperienza che sto facendo non è stato piacevole avere ancora questo virus che rompe le scatole molte persone iscritte hanno poi preferito andare all'anno prossimo e non è stato piacevole vivere tre incidenti che ci sono stati uno il primo giorno e due il terzo giorno spero che l'organizzazione sia stata all'altezza della situazione e se qualche cosa non è andata perfettamente vuol dire che cercheremo di migliorare nel 2022 perché non credo che mi fermerò al venticinquesimo anno ne ho almeno altre 25 da fare quindi datevi inaregolata tutti quanti insomma dovrete dovrete sudare ancora allora diamo adesso dei premi speciali e il primo premio speciale la diamo alla più giovane in gara che è Roberta Loriga o Loriga a secondo dell'accento che è già andata via no no sta arrivando devo dire che lei è la più giovane in gara ma c'è un'altra persona che vorrei invitare che spero ci sia ed è Boer Gianluca che è del 2004 quindi siccome era troppo giovane per partecipare alla gara l'ho iscritto al tour però lui di fatto era sempre in mezzo a voi non c'è Gianluca è un giovane italo-tedesco quindi sarà per il prossimo anno oppure devo fare i calcoli forse tra due anni sarà in gara anche lui grazie mentre il più anziano lo conosco da un casino di tempo aveva il numero uno quest'anno ed è Nencini Romano Nencini vai Romano vai lui qualche anno fa lottava per vincere la categoria adesso qualche anno fa adesso però viene ancora col gusto oggi è arrivato insomma con calma però l'importante è arrivare lo scopo mio quest'anno era di arrivare solamente quello era l'unico scopo che avevo grazie Romano al prossimo anno poi ci sono vorrei premiare tre super amici che sono le persone che hanno fatto tra i presenti più giri di Sardegna uno è naturalmente Antonio Pegoraro che li ha fatti tutti per non sbagliarsi e va quindi nel podio principale il secondo è Mauro Mauro Genghini da Bormio che ne ha fatti solo 24 e poi il terzo è Guido Vicanò che ne ha fatti 19 Guido è inutile che vi dica che li conosco bene queste tre queste tre persone e come dico sempre se continuano a venire o sono matti loro oppure facciamo una cosa che comunque ha valore grazie amici allora poi per farla breve dovrei fare un elenco di ringraziamenti lunghissimi ma mi mi trattengo perché dovrei ringraziare uno per uno quelli dell'organizzazione ma non lo farò chiamo l'applauso per quelli che hanno collaborato con me per l'organizzazione un altro applauso lo farei ai giudici di gara Rosalba e Roberto che adesso non si vedono gli dai il regalo ah bene se ci sa c'è anche un regalo Rosalba e Roberto in attesa ringrazio la la crono service che oramai anche loro da tempo immemorabili vengono immemorabili vengono al giro di Sardegna i motociclisti i motociclisti se vengono ci facciamo la foto eh che hanno accompagnato tutte le gare e devo dire quest'anno in particolare siccome ha funzionato tutto l'impianto radio e non ci sono stati problemi è stata una passeggiata per me fare il direttore di corsa loro anche diciamo che potrei premiarli come amici di lunga data perché saranno 15 anni 16 anni che vengono al giro Sardegna allora una foto Gabriele me la fai una foto con loro grazie amici ci vediamo la berrita al nostro Silvano che coordinava tutte le le operazioni qui in Sardegna grazie tutto bene come al solito ci rivedremo l'anno prossimo eh poi un grazie anche se non sono presenti al medico di gara e alle ambulanze e poi vorrei ringraziare tutti voi che siete stati presenti perché so bene che non è stato facile venire in Sardegna in un periodo come questo in cui il covid ancora non si toglie dalle scatole però è così è ehm ci sono stati come ho detto prima tre infortunati il primo la prima gara è Liviana Faoro lei ha avuto la frattura del bacino e della spalla stasera la porteranno in ambulanza alla nave a Olbia e poi tornerà a Bolzano in ambulanza il secondo non sapevo neanche che era infortunato che era Marco Mazzoni l'ho scoperto ieri sera perché lui sì 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 infatti l'ho scoperto ieri sera lui è caduto la terza tappa è andato in bicicletta all'ospedale lì gli hanno detto che aveva un problema al alla cuffia del femore lui non ha voluto non è voluto restare in ospedale ha preso l'aereo e è andato a casa c'è il fratello gemello vuol dire che dovrà l'anno prossimo dovrà essere qua se la moglie lo fa andare il terzo infortunato è Michele Pittacolo che dovrebbe essere di qua Michele ci sei lui è caduto alla terza tappa e vieni Michele vieni mi farebbe piacere che lui era venuto per vincere la sua categoria però mi farebbe piacere che ci salutasse anche se non ha vinto e si è dovuto ritirare insomma un saluto a tutti no ero venuto qua per divertirmi e poi ringrazio molto il tuo invito il prossimo anno ti risarò e speriamo di portare avanti la cosa che abbiamo in programma io e te di portare qualche altri atleta paralimpico un saluto a tutti il prossimo anno grazie un premio speciale per te grazie Michele allora infine ma dove andiamo il prossimo anno che è la domanda che molti mi hanno fatto devo dire che avrei voluto Santa Teresa di Gallura ma ci sono problemi con gli hotel allora siccome anche il tempo è ristretto perché l'anno prossimo farà in fretta arrivare visto che voglio tornare alla data nostra che è la fine di aprile quindi prendo il sicuro dove ci sono buoni hotel buoni percorsi e conosco praticamente tutti quindi l'anno prossimo al 97% andremo a Budoni ancora la proprietà dell'hotel è già stata avvisata troveremo un accordo per stare in molti se saremo in molti se il covid si scompare o comunque ci lascia tranquilli ma anche in meno se saremo in meno come quest'anno insomma quindi l'anno prossimo 23 29 aprile a Budoni questo è l'appuntamento speriamo di avere ancora Fabio di avere ancora Massimiliano Andrea Daniele Nardello insomma e magari ancora più gente e altri nomi importanti arrivederci quindi all'anno prossimo perché il Giro Sardegna merita persone che vengono qui con questo spirito positivo passo adesso all'oro per le estrazioni a sorte e vi ringrazio di essere stati qua grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.